Da gennaio a marzo 2024 sono 191 le vittime sul lavoro in Italia, di cui 151 durante l'attività lavorativa e 40 in itinere. In Campania la situazione non va meglio, nel primo trimestre 2024 ci sono stati 10 morti sul lavoro, 3.254 infortuni, 483 casi di malattia professionale, dato in salita del 4,6% rispetto a 12 mesi prima, un bollettino di guerra che colloca la nostra regione in zona arancione. In termini assoluti, in cima alla gradatoria con maglia nera come il peggior numero di vittime, c'è la Lombardia, 28, seguono la Puglia con 15, l'Emira Romagna con 14 e la Campania con 12. A marzo 2024 continua ad essere il settore delle costruzioni a registrare il maggior numero dei decessi, seguito da quello dell'attività manifatturiera. A denunciarlo il direttore generale di INAIL, Marcello Fiori. Sono dati preoccupanti ovviamente, poi vedremo alla fine di questo anno come saranno dati davvero le statistiche, ma ogni morte e ogni incidente sono per noi inaccettabili. Dobbiamo lavorare moltissimo a livello collettivo sulla prevenzione, sulla ricerca e sulla formazione. Le denunce di infortunio delle lavoratrici a marzo 2024 sono state ben 52.915, quelle dei colleghi uomini 92.215. Ci sono poi anche tantissimi infortuni tra gli stranieri, ben 23.879. Anche a marzo 2024 la fascia di età più colpita per il lavoro in itinere è stata quella che va dai 45 ai 54 anni. Daniele Leone, direttore INAIL Campania, analizza sia l'incremento delle morti ma anche degli infortuni che toccano anche in maggior numero le donne. Parlo di manufatturiero, è chiaro che ho una prevalenza di donne, se parlo di pubblica amministrazione ho una prevalenza di donne, quindi anche bisogna vedere il luogo dove si realizzano, purtroppo si concretizzano gli infortuni sul lavoro. Se noi guardiamo che gli infortuni sul lavoro principali, quelli mortali, sono in alcuni settori, quali le edilizie, l'agricoltura, l'incidenza donna viene un po' meno.